La tecnologia è molto importante in questo momento storico perché il settore è attraversato dalla chiara tempesta perfetta. I tradizionali settori e i tradizionali attori della catena del valore si stanno decomponendo perché gli asset manager cercano di imbarcarsi anche nel mondo della distribuzione con modelli di direct consumer e a loro volta i wealth manager cercano di farsi le proprie strategie di prodotto. Il settore in definitiva è attraversato da una chiara pressione sui margini e quindi bisogna liberare le potenzialità e i benefici che la tecnologia e le varie forme di tecnologia possono portare sia ai distributori che agli asset manager. Lo specifico a livello di modalità di advice, ormai le persone, gli i-network, gli ultra i-network sono dei nativi digitali, le donne sono sempre più presenti nel mondo del risparmio con i propri risparmi e quindi i bisogni di queste nuove categorie di persone sono sempre più complessi e analitici e quindi vanno affrontati anche con l'aiuto di qualcuno, di qualcosa di digitale, di qualcosa di tecnologico. Abbiamo sostanzialmente nel corso degli anni stanno prendendo sempre più piede tre tecnologie, blockchain, robotica e il digital advice, ovvero i canali digitali con cui dare ai clienti l'advise finanziario e non finanziario. Per quanto riguarda il blockchain, il block distribution ledger che dir si voglia è molto importante per garantire in reti private o reti anche pubbliche una time to market o dell'informazione riconoscibile senza ombra di dubbio, univoca, in definitiva cerca di decomprimere i costi di trasmissione dei dati e di riconoscibilità delle persone, dei clienti. La robotica digitalizza i processi interni, semplifica la macchina operativa, quindi aiuta nella riduzione dei costi di servizio, quindi nella riduzione del cost to serve e nella riduzione della produzione del prodotto, molto importante per quello. Invece le tecnologie nuove come l'artificial intelligence aiutano invece a migliorare le capacità previsive degli asset manager perché affiancate a tecniche tradizionali di analisi possono portare ad avere dei risultati di previsione più attendibili rispetto a quello che si avrebbe in mancanza degli strumenti di artificial intelligence. I canali digitali per gli advice, per l'advise finanziario sono una necessità, ritorno al tema dei nativi digitali, ritorno a chi non vuole essere intermediato da una persona e ha bisogno di avere dei contenuti di qualità senza perdere tempo nella trasmissione di questi contenuti.